Oggi qua siamo col mix, è ancora pieno di partire, ancora pieno di partire, ecco qua lo scappottamento come Nedulis, alla salute, guardate che belli stili qua, bellissimo, bellissimo, mix, ho appena trovato Nedulis e anch'io qua colpisco con un altro bel Nedulis, va bene, e qua c'è anche il nostro bel pinicolino, peccato che sia mangiato, se non era un bel pinicolo, ecco il mix che sale, oggi poverino, zoppica, fatica perché si è presa una bella mazzata sulla gamba lavorando, però non si molla mai, non si molla mai, funghi in bella vista oggi, oggi, anche se c'è gente, funghi si trovano, anche facili da vedere, vabbè dai, due bocciotti ci sono, guardate qua, che bocci, direi da fantastici, bellissimi, ecco qua un estivo ancora bello con un colore fantastico, adesso stiamo cambiando posto perché dove il mix domenica ne ho trovati tanti, anzi, è un pinicolo scusate, dove il mix ne ho trovati tanti domenica, oggi è martedì, ma ci deve essere passato il mondo perché poca poca roba, pochissima, eccole qua, due bocce di edulis, due patati, che belli che sono, questi sono belli, li tolgo con due mani perché sono belli piantati questi, belli edulis, piantati nella riva, guardate, eccoci qua, da sopra la starrata, dove la gente non guarda, ecco qua, una bomba di edulis, e lì, una manita, bello, bello questo, mi piace, bene, ragazzi, come veniva a fare la strada, stiamo costeggiando ancora la strada, oltre a questi due ho trovato altri due begli edulis, no, un edulis è un estivo, ma belli, bello, è sempre sopra la strada, c'è anche addirittura una macchina di qualche altro fungoiolo, X qua mi ha portato nei suoi posti, guardate che roba, guardate che neri, poi guardate anche la soffra, il mix tra vati, e oggi, oggi, San Mix, oggi, bisogna, dai, cosa le dici del tuo amico, va, direi che il mio amico mi porta i posti giusti, guardate qua, invece che roba, è ancora finita, ecco lì, San Mix, lei cosa mi fa vedere? Un regius, un regius, ma i funghi, i funghi dove sono? Ah, due, me le hai lasciate, vabbè dai, due, eh vabbè, meglio che niente, se iniziamo già così, poco sopra la strada, statale, oltretutto, due minuti che siamo, due minuti da una macchina, sì, ho la faccia bella stupita, ma, perché questi posti li conosco da trent'anni, ma, una cosa così non mi ha mai capitato, siamo veramente, veramente, vicini, stiamo a pochissimi metri da statale, veramente, nei posti del Marco Mix, guardate che roba, ne avremmo già trovati una trentina, ma, porca miseria, guardate che roba, qua, altre che la France, altre che la Francia, qua, ma qui, qua Italia, eh, Italia, quello ricordiamo, ma, diciamo che anche qua, gli estivi, gli estivi anche qua, guardate che spettacolo che sono, ragazzi, bellissimi, eh, anche questo, un bel estivo, adesso siamo in un bosco, puro a roveri, guardate qua che neri, guardate che neri, che neri spettacolari, spettacolo, Mix ha trovato una botta da dieci funghi, dieci neri spettacolari, ragazzi, guardate che roba, un botto, guarda che funghi, che funghi, che roba, oggi tutti i tipi di porcino, dal rosso al nero, e in più, anche gli ovuli, questo inizia, a schiudersi adesso, quindi lo possiamo prendere, questo invece lo lasciamo, bene, 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 ecco qua, guardate che bella famiglia, che abbiamo qua, questo è un bel fungo, va, dimmi Mix, che roba, ah, peccato che da una parte hai mangiato, perché questo era un fungo, dalla Madonna, ecco qua, insieme al Mix, un'altra bella strisciata di Aereus, guardate che freschezza queste, che meraviglia, ma io mi riposo un po', così sono veramente un po' costo, tra l'altro non mi fa più tanto male la gamba, con la pastiglia, qua bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione a non pestarli qua, questi sono neri, ma la quella è un po' più nera, qua lì è proprio nera nera, e vedi un po' più bassi, abbiamo preso di nuovo la costa, che meraviglia, e là che cade, e questo qua è l'ultimo, più bello dai, questo nero 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 proprio, che spettacolo, bene bene, e l'ultimo, bene, bene, Grazie.